Datemi voi l'ok Sara che è online Ok Siamo in diretta Confermatemi che siamo in diretta Mi dicono di no Mi dicono di sì perché io li vedo Wow Ciao ragazzi Ciao a tutti Oggi ho messo gli auricolari Ditemi se mi sentite Chiedo anche qui alla mia regia se mi sentono Vediamo Sì bene Speriamo sia vero Allora Oggi parliamo di un argomento leggero Posso chiedere a Sara Vieni prendi il mio telefono così lo guardi tu Allora oggi ho provato a farmi la piega per Benino Insomma Dassù ci ho provato Come mai? Perché oggi parliamo della bellezza dei nostri capelli Potete prenderlo? Per favore Grazie Continuo a suonare Grazie No niente Quello che c'è Va bene Va bene Allora Io vi Oggi abbiamo detto Parliamo della bellezza dei capelli e lo facciamo con Ready Yard Brand ambassador Biocorist Therapy Ciao Ciao Ready Ciao Isa Ciao Non ti sento Vediamo Eccoti Come stai? Bene E voi? Come procede la vostra quarantena? Dai Ready Abbastanza bene Ma tu Hai notato Visto che io e te ci conosciamo E anche Hai notato Di farmi una piega Degna di essere chiamata tale? Ma io sto notando Che i capelli Sono sempre belli Lucidi E quello Non bisogna guardare La messa in piega Bisogna vedere La naturalezza Del Del capello E quindi Io ti trovo sempre Fabolosa Lo sai La mia visione Tu sei uno Gentile Però diciamo Che io Sto usando Quello che mi rimane Dei tuoi prodotti Perché insomma Ricordiamo Abbastador Di Colorist Therapy Allora Ti Mio Chi sei tu Perché io ti conosco bene Molti dei nostri amici Ti conoscono Però Nasci come Consulente D'immagine Hairstylist Ma anche come Abbastador Di questi Prodotti Esatto Io Come Chi non mi conosce Io arrivo Dalla Diciamo Dalla Dalla cultura Berbera Il Fatatico Olio d'Arganne Diciamo Un po' Dalla nostra Terra L'olio d'Arganne Quindi Di origine Berbero Diciamo Che Rappresento Un po' La natura Quindi Tutto ciò Che è La natura Ed è Il biologico Dalle nostre Tradizioni Quindi Biocolorist Nace proprio Rappresentare Un po' Un colore Alternativo Per le donne Che vogliono Essere Sempre Total Bio Quindi Questo ovviamente È un po' L'immagine Che rappresento Dall'azienda Diciamo Reddy Che oggi Di Total Bio Del Bio Se ne parla molto Perché In quarantena Sappiamo Molto bene Che i prodotti Mancano Insomma Non si può Uscire Troppo Sono chiusi Sono chiusi Scusami Scusami Non sento niente Siamo in tantissimi Infatti tu mi chiedi Della mia quarantena Siamo in tanti Ognuno Fa il suo Però Tornando ai capelli Quello che ti volevo Chiedere È Total Bio Quindi Bio Quando noi abbiamo La ricrescita Adesso io mi sono Spruzzata Sai Quei prodotti Per togliere Un po' Di bianco Perché Effettivamente La crescita C'è In tantena Che dobbiamo fare Allora Quello che io Tendo Tendo sempre A consigliare Allora Possiamo trovare Esempio Delle fasce Un po' Divertenti Un po' Grintose Che raccolgono Un po' Il capello Senza ovviamente Andare Ovviamente Quello che io Consiglio sempre Quando Si Il kit Fai da te Di utilizzare Solo Delle zone Dove hai La ricrescita Del capello Bianco Perché Perché se Magari Due mesi fa Una nostra Amica Ha fatto Un lavoro Di sei ore Dal parrucchiere E magari In questo tempo Andare a Tra virgolette Rovinarlo È anche Uno spreco Un peccato Quindi tanto vale Fare un kit Stando di un tono Mezzo un po' Più chiaro In modo per Prevenire Diciamo A non rovinare Il lavoro svolto Qualche mese fa Questo è il mio consiglio Va bene Esatto Però Insomma Per Semplificare Banalizzare Le tinte Perché Quello che tratti tu Sono colorazioni vegetali Ma banalmente Al supermercato Noi troviamo Quelle colorazioni Tinte Insomma Un po' Fai da te Sono già dei kit Già fatti Ci sono tante Marche Che lo producono E quindi Noi Rispetto al colore Che abbiamo Ne prendiamo Intanto Un colore in meno Ma uno vale l'altro Ready Oppure ci puoi Consigliare Cosa avvicinarci Dico sempre Un professionista Diciamo Quando L'amica O la cliente Ha bisogno Di un'emergenza Sicuramente Mette gli strumenti A disposizione Per poter aiutare Perché È un momento Che dobbiamo essere Tutti uniti Ok Per esempio Io ho amiche Che mi dicono Cosa fare Io Comunque Do delle dritte Però Di cercare Di non Essere Diciamo Avere una copertura Totale Perché realmente È un peccato Perché se hai Una copertura totale Tra un mese Non puoi tornare indietro E quindi Tanto vale Preservare Esatto Soprattutto I biondi Giusto Il biondo È tipo il mio Il biondo È tipo il mio Esatto Esatto Quindi cercare Esatto Quindi io vado Con un 7 Esatto Difficile che sei tu Quindi io con un 7 Vado Nella zona Dove tu hai Diciamo Che si intravedono Il capello bianco Perché tu sai benissimo Che tra un mese Ti cambierò colore E quindi Previeni Diciamo A non Andare a svolgere Grazie Esatto Non andare A svolgere Diciamo Un lavoro Secondo te Sì Insomma Ha legato Tutto il tempo A fare Allora Salutiamo Comunque Dada Salutiamo Carla Che è la mia mamma Salutiamo Luigi Nappo Vediamo Se abbiamo Delle domande Alessandro Alessandro Era un compagno Di classe Di mia figlia Dada È una biocolorist Quindi ci sono vari biocolorist In tutta Italia Che utilizzano Ah ecco Esatto Esatto Allora Allora Parliamo un po' Di biocolorist Che dopo invece Ho delle domande Da parte Perché Prima o poi Riapriranno I saloni Di bellezza Dei nostri capelli Quando riapriranno Non lo sappiamo So che sono gli ultimi Giusto Redi Sì Sono gli ultimi E sicuramente Diciamo Ci sarà tanto Da lavorare Perché ovviamente Bisognerà seguire Delle normative Quindi ci sarà Tanto Da fare L'apertura Perché Troveremo Tra centri estetici Parrucchieri Sicuramente affollati Questa è la mia convinzione Guarda Mia sorella Ha un negozio Si chiama Napa Center Faccio anche la pubblicità In via San Michele Del Carso 7 E lei mi dice Che già ci sono Ciao Chiara Che già ci sono Le clienti Che la chiamano E le dicono Chiara Avvertimi appena Appena apri Chiamami Devo essere la prima Perché ho i capelli Ho la ricrescita Ho i capelli lunghi Eccetera Speriamo Che questo virus Passi Eredi Che noi tutti Possiamo pensare A cose un po' più leggere Come i capelli Esatto Allora Partiamo con queste immagini Questa è quella Che ti rappresenta Giusto Questo è Il biocolorist Sì Allora Diciamo che Io amo La naturalezza Del capello Quindi Il fatto di biocolorist Mi rappresenta Un po' per cento Come brand Perché Racconto Il mondo Del vegetale Colorare con la natura Trasformare il capello bianco In sfumature E il bello Che racconta Un po' essere Un po' bambine Quindi tu immaginati Quando eri bambina Che avevi questi riflessi Un po' naturali Quindi sembravano Delle micromeshe Biocolorist Nasce proprio Con delle tecniche Per colorare Esatto Qui Qui per esempio Che cosa vediamo È una terra È una terra Questa che vediamo adesso È una terra Che utilizziamo Acqua E piante Micronizzate Con Diciamo Piante colorate Dove ha una copertura In questo caso Abbiamo un bel biondo Il biondo I bianchi Diventano biondi Quindi evitiamo La fanatica Tecnica Colpi di sole Perché si possono Sostituire Alla tecnica Dei colpi di sole Quindi i bianchi Diventano biondi È il bello Della colorazione vegetale Che oltre a essere colorante Cura tantissimo il capello Infatti qua abbiamo Esatto Anche qui vediamo Degli altri Cos'è che vediamo Ready? Qua abbiamo Un lavoro svolto Che è un biondo Sabbiato Dove andiamo A creare Come se fosse Un colpo naturale Senza Creare L'effetto Barratura L'effetto Ricrescita Della tinta Ok Quindi E qui invece Lo vediamo Con colori diversi Giusto Ready? Esatto Questi sono Vari lavori Svolti Da tutti i biocolorist Un po' Da tutta Italia Che Possano I loro lavori Quindi diventa Diciamo Un'azione Virale Dove Vanno Trasmettere La trasformazione Del capello In modo naturale Perché al giorno D'oggi Come diceva mio nonno Sì ma E la frase di mio nonno Ascolta la terra Ti donerai Ti donerai i suoi colori Esatto E tutti i colori Abbiamo visto Che ne doni tante Mia sorella Dice No A me Apriremo a fine maggio Caseta Speriamo di no Speriamo Che come dicevamo Che come dicevamo prima Insomma Si riesce Un po' Quella che è L'apertura Di nuovo Di tutto Invece Tornando a tuo nonno È vero I colori Della terra Sono quelli più belli Sono quelli più naturali E probabilmente Quelli che Rendono anche Il capello Più naturale Ecco Guardiamo Questo biondo Descrivimi Allora Abbiamo Una Diciamo Una modella Una cliente Che aveva Sempre un cappello Sfruttato Quindi Mesciato Colpi di sole E in continuo Trattato È stato sostituita La tecnica Diciamo Schieriture Con la tecnica Biomesh Che insegniamo Dove Questa tecnica Mi permette Di andare A ricreare L'effetto Colpo di sole Senza Danneggiare I capelli Ecco E la stessa cosa Per questo Perché oltretutto Qui oltre Ad aver ravvivato Il colore Abbiamo un capello Molto bello Corposo Giusto Qua abbiamo fatto L'olio blondage Con dei trattamenti A base Di canapa E moringa Dove Vanno a creare Un'azione Rivitalizzante Istantaneo Con una durata Ovviamente Del capello corposo Addirittura Per più di un mese Quindi ci sono Tanti trattamenti Che si possono svolgere Ecco Io ne ho bisogno Io a parlare Con te Ho bisogno Di queste Queste cose Proprio Mi viene proprio Voglio Queste cose I tuoi trattamenti Fra un attimo Però mi dirai Che trattamenti Invece possiamo fare A casa Con quello Che abbiamo In frigorifero Aspetta Parliamo però Dell'accademia Perché vorrei Chiudere Il cerchio Il cerchio Biocolorist Ecco per esempio Qui tu stai Insegnando A delle ragazze A utilizzare Il prodotto Biocolorist Sì esatto Sì esatto Noi arriviamo Facciamo la formazione Attualmente ci sono tappe Milano Ravenna Roma E Napoli Queste quattro strutture Dove ovviamente Insegniamo I biocolorist A specializzarsi Al punto di entrare Poi nel sistema Marketing E essere Diciamo All'interno Di un salone Locator Quindi creare Una formazione Mirata Proprio a imparare A utilizzare La natura Questo diciamo È una specializzazione Dedicata proprio Al professionista Bene bene Allora I professionisti Che utilizzano Però Dei prodotti Che ci dona La Due cose Che si Che si associano Insomma Che si mischiano Quindi se noi Trattiamo bene La nostra terra Il nostro mondo Il nostro mondo Ci dona Dei prodotti Che noi possiamo Utilizzare Se andiamo A rovinare tutto Belli miei Finisce proprio così Com'è Giusto Ready Infatti Noi utilizziamo Solo foglie Micronizzate Ma non utilizziamo Alberi E rami Quindi Il ramo L'albero Rimane Integro Utilizziamo Solo foglie E come andare A fare un raccolto Quindi Vengono utilizzate Solo esclusivamente Foglie Ma che bello Bello Mi piace molto Poi tu In questo momento Saresti dovuto Essere a Bologna Del Cosmoprof Purtroppo Ce la siamo giocati Quest'anno Però so che avevi Un salone bellissimo Avevi uno stand Meraviglioso Lo faccio All'anno prossimo Ti ho portato Un po' di colore Dai Cosmoprof Se Dio vuole Sì dai A settembre Lo facciamo Guarda Tu hai i colori Del logo Di Celisa Il blu Il blu cobalto Come il blu Dei prodotti Di Blue Colories Perché adesso Io qui Non ne ho Però Sono tutti blu Buoni E di buona profumazione Insomma Io poi lo uso Guarda Guardate che bei capelli Ready Adesso sono bei capelli Ho dei capelli decenti Perché li ho lavati Gli ho pettinati Ho usato i tuoi prodotti Ma lo stress E la quarantena Lo indebolisce il capello Vero? Purtroppo sì Perché voi donne Avete un piccolo vizio Di legare spesso i capelli E secondo me In questo periodo Non vanno legati E non bisogna Tenere code strette In modo per poter avere Un capello non sfibrato Io consiglio piuttosto Di fare Delle trecce In modo che Quando si tolgono Le trecce Rimane il capello Un po' mosso Ma tenere piuttosto Uno scigno ammorbido Mai coda E mai coda stretta È importante Ah Quindi no alle code Per quanto riguarda Il lavaggio Per asciugarle Lascia stare Oggio Comunque la piega Utilizzare il phon Oppure col fatto Che non ci vede nessuno Ce ne freghiamo E le asciughiamo Così come vanno vanno Allora Io punterei Molto di più Magari A valorizzare Gli occhi A fare un trucco Che magari Stare a stressare In continuo i capelli In modo che Rafforziamo Il capello Ma soprattutto Fare delle ricette Fai da te A fare degli impacchi Ristrutturati Per fortificare il capello Visto che Con la natura Con trattamenti lunghi Esatto Infatti Io qui ho Una penna Perché adesso Tu mi dai Una ricetta Una ricetta Una ricetta I capelli Alla settimana Ready I capelli Almeno un paio di volte A settimana Consiglio Di lavarli Ok Almeno Perché la cute Comunque deve rimanere Pulita Esatto Però ovviamente La cosa importante È non utilizzare Lo shampoo Anche in lunghezze Quindi lo shampoo Va utilizzato Solo e esclusivamente In cute Questo è molto importante Ah non dobbiamo Strofinare i capelli Assolutamente Assolutamente Lo shampoo Va utilizzato Per la lunghezza Ma utilizzato Solo e esclusivamente In cute È importante E fondamentale Proprio per Preservare La struttura Dei capelli Quindi frizioniamo Bene la testa Così Che così Si riallena Anche il cuoio Pilifero Si chiama così No non si chiama Cuoio pilifero Come si chiama Vabbè Il bulbo Cuoio capello Esatto Sì mi giravo Effettivamente ho sbagliato Io ho fatto un tutt'uno E quindi la ricetta Punterei su una ricetta Fai da te Utilizzando degli ingredienti Principali Che possiamo trovare Nel nostro Scaffale Dei nostri acquisti Magari Inserire Nella Classica Lista Di spesa Inserire Io per esempio Quello che consiglio Come ricetta Universale Adatto a tutti i capelli Yogurt E olio di semi Di lino Questi sono I due ingredienti Che si possono Inserire All'interno Della nostra spesa Allora Yogurt Magro Intero Senza zu Magro Bianco Esatto Yogurt magro E senza zu Poi Poi ovviamente Passiamo a inserire Nel nostro composto Di yogurt All'incirca Vai dai 50 A 100 grammi Due cucchiai Di olio di semi Di lino Ma dove si compra L'olio di semi Di lino Si trova ovunque Perché È consigliato Anche per chi Ha problemi Di colesterolo È ricco Di omega 3 6 9 Quindi Non ci sono Problemi A trovarlo Lo trovo Anche al Sopramercato Banalmente Trovo ovunque Perfetto Allora Yogurt Olio di semi Di lino Poi Due cucchiai Si prepara il composto Tutto qua Semplicissima È una ricetta Proprio adatta A tutti i tipi Di capelli Quindi dal capello fine Al capello riccio A qualsiasi tipo di capello Per rinforzarlo Lo mettiamo sul capello Bagnato Sul capello asciutto Sporco Pulito Si fa l'impacco Il trattamento Si tiene Si applica Si pettina E si tiene 60 minuti A capello asciutto Quindi capello non lavato Capello sporco E si tiene 60 minuti Poi si lava Con shampoo E poi Balsamo E avremo un capello Rigenerato Istantaneamente Lo faccio Lo faccio Prossima spesa Compro lo yogurt Bene Adesso voglio parlare Avete segnato? Avete segnato Comunque Dopo magari Ve lo riscrivo Comunque abbiamo detto Uno yogurt magro Due cucchiai Di olio di semi Di lino Che fa bene anche Per il colesterolo Perché è ricco Di omega 3 60 minuti Sul capello Asciutto E via che diventiamo Come mai le influencer Sono tutte così belle Hanno tutti dei capelli Così belli Ready? Perché non Il vero segreto Della bellezza Di capelli È non Stressare il capello Perché è fondamentale Che più il capello Lo andiamo a stressare Più diventa elettrico Cerchiamo di rendere Un capello Diciamo Lo lasciamo tranquillo In questo periodo Quarantena Lo curiamo Ci prendiamo cura Del nostro capello Ma cerchiamo di Non evitare Ovviamente Ferri e fonne Perché non Non ha senso Questo periodo E al sole Redi Al sole Visto che oggi Chi può Chi ha il terrazzo Chi ha banalmente Oggi mi piace la parola Banalmente O chi ha Solamente anche Un balcone E magari Si siede fuori A prendere Qualche raggio Di sole I capelli Anche lì Andrebbero tutelati Esatto Protezione capelli E protezione corpo Quindi Protezione viso e corpo E anche protezione capelli È fondamentale E che cosa utilizziamo Per proteggere i capelli Ma Una ricetta Fai da te La maionese Magari La maionese No Però La maionese Perché all'interno Abbiamo L'uovo La parte rossa Che è ricca Di acidi grassi E quindi ovviamente Rimane anche molto Il capello Rimane molto Nutrito Idratato Proprio Per proteggere Dai raggi UV Tu pensa Che mia nonna Utilizzava L'uovo Per proteggere I capelli Dal sole Ok Quindi possiamo Mettere l'uovo Prima di andare Al sole Oppure Si può Utilizzare L'uovo La parte rossa Dell'uovo Prima di lavare I capelli Farsi un impacco È un'ottima Progezione solare Faremo un po' Puzzo Ma chi se ne frega Tanto siamo solo noi Noi E le mie figlie E le mie figlie E le mie figlie E le mie figlie È Io guardo molto i social Ci sono tutte queste frangette Tutte queste ragazze Che hanno voglia Che hanno il desiderio Di tagliarsi i capelli Aspetta Redi che Ci sono anche dei messaggi Vediamo Chi è che ci scrive Maria Grazia Ma poi dobbiamo Davare Ogni volta Che prendiamo Dobbiamo lavare Eh sì Sì perché L'olio Allora Io consiglio Diciamo La maionese Perché rimane Più pratica Diciamo che La maionese È quella più sempre Da trovare Ma soprattutto Come protezione solare I capelli poi Vanno lavati Ovviamente La protezione Va integrata Quando ci si espone Il sole Eventualmente Possiamo mettere Anche dell'olio Di semi di lino Come alternativo Però purtroppo Quando Vanno piuttosto Si sciacquano i capelli Ma non si utilizza Né shampoo Né maschera Quindi quando si utilizza Soprattutto le punte In sé Perché sono le punte A essere rovinate Dal sole Dai ragioni Esatto Sì infatti Le punte sono quelle Che si sfibrano meno Chiede Patrizia Che saluto Io ne perdo tantissime Effettivamente Io sto perdendo Un mare di capelli Sotto la doccia Devo poi togliere Con le mani Perché non fanno Andare giù l'acqua Le parrucche Come mai? Allora Calcolate che In versione quarantena Siamo anche sotto stress La voglia di fare Tante cose La voglia E quindi ovviamente Dobbiamo cercare Di un tanto Rilassarci Perché ovviamente Non è che possiamo Trovarci alternative Però quello Che io consiglio In questo periodo Di utilizzare Degli integratori Da inserire Ovviamente Nella nostra routine Quotidiana Quello sì Ovviamente Bisogna Chiedere a un Utilizionista Quali integratori Possono aiutare Proprio per il nostro Far bisogno quotidiano Guarda Proprio perché Me ne parli L'hai nominato Tu pensa Che Avremo qui A Celisa Un nutrizionista Si chiama Giuseppe Petrosino E lui è Biologo Nutrizionista Intanto Lo anticipo Perché con lui Andremo a vedere Proprio Quelli che sono Gli alimenti Che aiutano un pochino Tutto il nostro corpo Capelli Unghie Occhi Pelle E quindi Ecco Quello è un appuntamento Da non perdere Roa Che ti dicevo Che oggi Allora Salutiamo Pierluca Salutiamo Alessio Salutiamo Antonio Sassone Ciao E salutiamo Anche Maria Grazia L'abbiamo Ciao Maria Grazia E poi Lisa E Redi Esatto Tagliare i capelli Da sole Esatto Allora Fammi dire Andiamo a riprendere Le foto Allora Sui social Spazzano Non si dice Spazzano Come si dice Ragazzi Ci sono tutte Queste foto Di ragazzi Che dicono Voglio tagliarmi i capelli Mi faccio la frangia Mi faccio la frangia Però qual è poi Il rischio Che uno Tagliare i capelli E rimane così Esatto Insomma Quel taglio Non è bello Però la voglia Tagliare i capelli Come si può fare Ready Ma allora Quello che io consiglio Per chi magari Vuole creare In questa versione quarantena Un po' di leggerezza Andare magari A farsi una frangetta Perché la frangetta Dà un po' di leggerezza Al volto Rende un volto Più Più leggero Quindi anche Più frizzante Io consiglio sempre Io amo molto Diciamo Lo stile francese Il fatto di utilizzare Una frangia Più Diciamo Più morbida Meno Nella Meno dura In modo che Rimane più Sbarazzina Quindi l'effetto Di frangetta Un po' più corta Un po' più lunga E laterali È una cosa Che la trovo Di una sensualità Incredibile Quindi La frangia La frangia Quindi non il classico Non Valentina Sai Valentina Proprio Allora Ti faccio vedere Un'altra foto Perché Sara La mia bimba Più grande A parte che lei Ha dei capelli Meravigliosi Ho dato Tutto La bletter E Come era prima Lei era Così Vediamo Si vede Non si vede Voilà Guardate che meraviglia Questa è Sara Quindi col capello Lungo Pari Tutto Fino alle spalle Fino al seno Insomma Tutti lunghi E mi diceva Mamma Mamma Voglio la frangetta Voglio la frangetta Voglio la frangetta Gliel'ho tagliata io Dimmi se sono stata brava È bellissima Vedi come cambia il volto Come rimane più frizzante Più Diciamo Sensuale Gli ha cambiato Proprio il volto Perché Perché dà Con la leggerezza Al viso La frangia Però ha una frangia Più sbarazzina Quindi meno effetto Carrè Valentina Quindi quello ovviamente Hai fatto benissimo E io lo consiglio Per chi Chi vuole Realmente Dare un po' Di leggerezza Al volto Effettivamente Cioè c'è proprio Un cambiamento Così la rende più giovane Più dinamica Una ragazza più Adatta Alla primavera Che sta arrivando Vero Infatti noi la vediamo Dentro casa Esatto Esatto Noi la passeremo qui Senti Un consiglio ai maschietti Invece Voi avete Per esempio Antonio Sassone Non so se sia Ancora assieme a noi Il mio collega Maschio preferito E lui usa La macchinetta Tipo La macchinetta Quel tagliaerba Che voi ve lo passate Sui capelli Ecco Però Chi ha i capelli Un po' più Si può fare Ma allora Per esempio Come trattamento Consiglio Il trattamento Lo yogurt Che abbiamo citato prima Che sia Verso l'uomo Che verso la donna Quindi è Universale Come trattamento E va bene Anche per chi ha Problemi di Desquamazione Di forfora Perché realmente Lo yogurt Ha dei Diciamo Dei principi attivi Benefici Per il cuore Il capelluto Quindi consiglio Vivamente Sia per l'uomo Che per la donna Quindi io per esempio Mi faccio i miei trattamenti Il mio yogurt Non deve mai mancare Ok Ma Vessi capelli lunghi Come i miei È inutile Che se li tagli Conviene che aspetti Il 24 maggio Quello che è Andasse poi Da un parrucchiere Vero Io ho I capelli Lunghi Cioè Mi sono cresciuti E sono disperato Cioè Da parrucchiere Io non me li taglio Da solo Nel senso Ovviamente Il mio parrucchiere Di fiducia Io sono Principalmente Colorista Quindi mi occupo Solo del mondo colore E il Ho Diciamo Il mio parrucchiere Di fiducia Che giustamente Mi dice Guarda Mettiti un po' Di gel E vai di gel E vai di gel Esatto Vai di gel Va bene Hai fatto bene Bene Allora Ricordiamo Comunque Il sito internet Di Biocolorist Therapy Così per avere Comunque Anche Delle informazioni Rispetto a Quelle Dato Dai Un ultimo Consiglio L'ultimo Su Come Prenderci Cura Della Nostra In questo periodo Quarantena Io mi fido Solo di te Dimmi Allora Ci sono Tantissimi Modi Perché ci sono Tante ricette Che secondo me Si possono Anche Dar delle Chicche Le prossime Volte Perché Se no Roviniamo Diciamo Il mistero E la sorpresa Ai nostri amici Quello che io Consiglio In questo periodo Di cercare Di puntare Molto Su ricette Fai da te Per Perché sono Più lunghe Quindi Esempio Quella Della Yogurt Tenere Le cose Quella Tu sai benissimo Che i trattamenti Naturali Hanno bisogno Del loro tempo Quindi se Una donna Durante L'anno Ha poco tempo Anche di tenere in posa Dieci minuti Una maschera Sfruttiamo La quarantena Per prenderci Cura dei nostri Capelli Quindi io Lo dico Sia l'uomo Che la donna Bravo Di noi Cercare di Curarci Cioè curare Il nostro Il nostro Corpo La nostra Persona Bene Grazie Redi Sei stato Gentilissimo Di averci Dedicato Il tuo Tempo Tanto Noi ci Rissentiamo Ci rivediamo Qui a C'è Lisa Con altri Consigli Va bene Ricordati Lisa La frase Ascolta la Terra Ti donerai Sui colori Ciao Rispettiamo Che ci donerà Tutti i suoi Colori E i suoi Frutti Un bacio Buona serata A tutti Ciao Ciao Ciao